Io credo che sia un fatto gravissimo questo che ha fatto la Regione Campania, di cui il Presidente Caldoro si assume la responsabilità perché da più tempo lo stiamo sollecitando sul Collana, ci stanno tenendo appesi perché il comodato scade il 31 dicembre, non solo non ci fanno saper nulla di un comodato che va portato avanti negli anni perché il Collana è nello stadio della città, quindi il comune non può essere espropriato anche dal Collana, non solo ma in modo assolutamente immotivato con la caduta di un calcinaccio nella parte esterna del Collana, messo in sicurezza immediatamente da Vigile del Fuoco e Protezione Civile, senza fare accertamenti interni sul resto degli impianti, ha disposto la chiusura del Collana. Quindi io immediatamente mi sono mosso, ho dato direttiva ai nostri dipendenti di fare immediatamente gli accertamenti, a seguito degli accertamenti verificheremo, che devono completarsi immediatamente appunto in questa settimana, quali parti del Collana sono agibili, perché io credo che la gran parte delle strutture del Collana sono assolutamente agibili e quindi non c'è nessun motivo per tenerlo chiuso. E poi chiedo alla Regione, invece di fare queste cose gravissime perché impediscono a cittadini, ad atleti, a sportivi di andare a giocare, perché non ci consente di avere nuovamente il comodato, quindi di fare un bando, di affidarlo alle associazioni, alle federazioni, a tutti coloro che intendono investire nel Collana, perché non approva il progetto che da tempo abbiamo presentato alla Regione per la ristrutturazione del Collana, perché non ci dà il comodato in modo che possiamo spendere anche quei pochi soldi che abbiamo per rifare la pista da Tredica. Insomma sono sette mesi che noi poniamo questo tema, non ci tengono appesi, il comodato scade il 31 dicembre e cosa l'unico atto che fa la Regione è fare prima un bando fuori dalle regole, tant'è che l'hanno dovuto ritirare, fuori dalla legge statale e poi chiudono così, dall'oggi al domani, un impianto. Mi sembra un atto politico, è molto evidente, è molto grave, ma il Presidente Caldoro ormai ultimamente ci abitua ad atti contrari e contro la città di Napoli.